Prosegue anche se con diverse difficoltà il piano vaccinale dedicato al personale scolastico. L'obiettivo è quello di accelerare al massimo le somministrazioni per permettere il ritorno in classe in sicurezza degli studenti. Da oggi in DAD con ordinanza del Presidente della Regione Marsilio. Sono oltre 26.000 richiedenti del mondo della scuola in Abruzzo, esclusi quelli rappresentanti del settore universitario. La tabella di marcia dipenderà molto anche dalle dosi che si avranno a disposizione. Sul fronte dei ritardi i sindacati chiedono chiarezza. Dopo i problemi registrati con molti appuntamenti disdetti, diversi docenti che dopo aver prenotato ed essersi messi in viaggio verso le postazioni allestite sono stati rimandati indietro. Un po' di caos c'è stato sul mondo della scuola in quanto molti insegnanti lamentano che debbono fare tantissimi chilometri per poter fare andarsi questo vaccino. E' vero sì che la vita non vale, che vale molto di più dei chilometri, però loro dicono, ebbene sì, noi non è che ci spaventiamo dei chilometri da fare, ma se questo vaccino poi come succede spesso ha una reazione, febbre, giramenti di testo, dolori muscolari eccetera, loro dicono io che devo riportare la macchina da sola, come faccio? Ecco perché si sono lamentati, specialmente quelli dove sono più lontani, Silvi, Pineto, Roseto, che debbono andare a Teramo da soli e poi ritornare dopo il vaccino a casa da soli. Di ritardi ce ne sono perché gli insegnanti che si sono già prenotati a tutt'oggi non sanno ancora quando debbono andare. Di quelli certi sono Silvi, Roseto, Pineto, Giulianova, che hanno già una data, Roseto ad esempio già sono stati fatti ieri, ma gli altri andando in su, Martinsicura, Albadriatica, Corropoli, Controguerra, non sanno ancora quando debbono andare, quando ci debbono andare. Per esempio ci sono docenti, anche questa mattina mi hanno chiamato, hanno chiamato e hanno detto sì, ma io ho avuto il Covid a gennaio, debbo adesso fare questo vaccino? Dal suo medico curante gli ha detto no, il pneumologo ha detto sì, pertanto il caos regna sovrano in questo caso perché nessuno sa dare una risposta certa, lo debbo fare sì o no?